Davanti alla Pirelli per testimoniare la vicinanza ai lavoratori, allo stabilimento più importante del territorio del Val d'Arno, la Manifattura. Uno stabilimento che ha visto crescere figline e che in qualche modo anche ha preso tanto da questo territorio. Vedere qui tutti gli operai che manifestano per ricordare questo attaccamento e per dire Pirelli non puoi abbandonare tutti noi senza garanzie. Adesso a Roma c'è in corso una trattativa, c'è un'ipotesi di vendita a Becquette che preoccupa molto perché è un concorrente che ha la ricerca e sviluppo in Belgio e quindi questo è un problema per il nostro stabilimento ma ancora più per il sistema Italia. Forse ci sono anche altre possibilità ma ancora non si sono concretizzate, ricordate italiane. In ogni caso è importante tenere alta l'attenzione affinché si possa chiedere prima di firmare qualsiasi vendita le maggiori garanzie in termini di occupazione, in termini di investimenti, in termini di volumi per questo stabilimento.